la leggenda del nome del paese di corbetta ambrogio benché i milanesi lo volessero vescovo della città lui di diventarlo proprio non gli andava giù perciò una serata d'autunno nella quale era sceso un nebbione molto fitto decise di prendere la sua mula che si chiamava betta qualcosa da mangiare e scappare dalla città imboccata la prima strada che gli capitò cominciò ad andare e per due giorni e due notti camminò senza fermarsi ma la nebbia era così spessa così spessa che non sapeva dove era finché al terzo giorno si mise su del vento che la spazzò via tutta e si accorse che non aveva fatto altro che girare intorno a milano ed era arrivato più o meno in questo luogo e gli abitanti del posto avendolo riconosciuto fecero suonare a festa le campane del paese e lo volevano loro vescovo ma siccome ad ambrogio di diventarlo non gli andava incitava la sua mula che si chiamava betta a correre e gli diceva corri betta corri betta corri betta ma la povera mula non poteva più muoversi perché la bloccavano gli abitanti finché fu preso e portato in trionfo a milano e fatto vescovo il posto dove lo fermarono prese il nome della frase che incitava la sua mula a correre cioè corri betta corri betta e il luogo venne chiamato col nome di corbetta grazie a tutti grazie a tutti